Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di vigilia del nostro allenatore Massimiliano Allegri. Cominciamo come sempre con una domanda a testa e vedremo in base a quante sono se riusciamo a aggiungerne. Iniziamo con il nostro canale, grazie. Buon pomeriggio mister, Adorno di Sidi di Juventus TV. Le chiedo che tipo di partita si aspetta a avere fuori domani e di conseguenza cosa dovrà fare la Juve per avere la meglio sull'Atalanta. Di solito le partite con l'Atalanta sono tutte partite combattute. L'Atalanta è in un buon momento di forma, non ha ancora preso golo in casa e non ha ancora perso in casa. Bisogna affrontare la partita nel migliore dei modi, con grande attenzione e soprattutto cercando di tenere un buon ritmo. Buongiorno mister, Giovanni Albanese Sport Italia. Pioli dice che la Juventus è favorita per lo Scudetto. Non so se vuole commentare questo. Le chiedo anche in questo momento per voi, guardare la classifica, vista la squadra con poca esperienza. È motivo di motivazione o può essere un rischio di perdere di vista l'equilibrio? Grazie. In questo momento guardare la classifica è poco importante anche se rimanere nelle prime quattro sicuramente ti farebbe crescere in autostima e lavoreresti più sereno e tranquillo. Noi bisogna continuare a lavorare sapendo che il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro con il desiderio di fare grandissime cose. La squadra sta crescendo, stiamo crescendo anche fisicamente. Secondo me ci sono i vari rabbio UEA stesso che stanno cambiando anche fisicamente a livello di motore e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la favorita io credo che parlare di queste cose non serva a niente e soprattutto non è un'equazione matematica che chi non gioca alle coppe è favorita della Champions, è favorita per vincere il campionato. Perché lo dimostrano i numeri delle ultime annate. Buongiorno mister Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Questa mattina il direttore è giunto in un'intervista e ha detto che prima di pensare a eventuali colpi per gennaio bisogna fare una valutazione della rosa di adesso. Lei ha già un'idea del valore del suo gruppo, grazie. L'ho detto tante volte, la squadra sta lavorando bene a entusiasmo, voglia di fare e soprattutto voglia di migliorare. Noi tutti i giorni lavoriamo, sfruttiamo il fatto che non giochiamo la Champions, cercando di andare a mettere dentro sia su singoli giocatori sia sulla squadra delle cose in più. E quindi quando hai una squadra con giocatori più giovani o meno esperti è normale che devi vedere le cose in modo positivo, perché comunque c'è solo margine di crescita. Giorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Volevo sapere come sta Vlaovic. Lui e Chiesa sono al momento la coppia goal che in Serie A ha segnato di più. Pensi che più di Bala-Lukaku, più di Turam-Lautaro se non sbaglio. Pensi che, hai fatto già in prospettiva, quanto pensi che possono arrivare e credi che possano veramente affermarsi come la coppia più forte della Serie A? Intanto l'importante è che Vlaovic cominci a star meglio, perché purtroppo domani non ci sarà, perché c'è il solito problema alla schiena, che l'ha tenuto fermo per qualche giorno già la scorsa settimana. Questa settimana ha fatto i allenamenti, però ieri si è fermato e quindi oggi aveva parecchio dolore, allora a questo punto qui è meglio tenerlo fermo e cercare di farlo recuperare in maniera totale. Poi per quanto riguarda, così almeno vi dico chi c'è e chi non c'è, rientrerà Ken e quindi questa è una nota positiva, che sta bene. E dall'altra parte non ci sarà Milic che dopo la partita e l'allenamento post-gare abbiamo avuto un... Diciamo che si sentiva un polpaccio un pochino strano, siccome il polpaccio è una parte un po' delicata, abbiamo parlato e abbiamo deciso che è meglio che recuperi pienamente, così martedì sarà di nuovo con la squadra. Poi tutti gli altri sono a disposizione. E avremo Mancini con noi, che è un altro ragazzo giovane della Next Gen, che sarà convocato con noi. Le volevo chiedere un po' del centrocampo, perché insomma Locatelli e Rabiot non sono mai in discussione, c'è questa alternanza tra Fagioli e Miretti. Le volevo chiedere su quali basi, visto che sono comunque due giocatori che hanno caratteristiche diverse, uno è più in cursore, l'altro è più diciamo mezzala di regia, e a questo punto, viste le notizie che ci ha dato, se domani invece Miretti può giocare in appoggio alla punta, oppure se vedremo Chiesa e Ken. No, domani Ken rientra e gioca da titolare. Poi per quanto riguarda metà campo, giocherà uno tra Fagioli e Miretti, stanno tutti e due bene. Miretti ha fatto una buona partita anche a Sassuolo, domenica l'altro giorno è entrata, è entrato bene, quindi è a disposizione, sta crescendo, così come sta tornando in buona condizione Fagioli. Quindi domani valuterò e deciderò. Buongiorno, mister Gallo Mediapason. Volevo tornare su Vlaovic, l'avrei fatto le domande che hanno fatto i colleghi, le chiedo però se è un giocatore un po' da gestire fisicamente, nonostante ragione l'età, in un processo di crescita dopo la stagione scorsa, anche quest'anno, ha questi piccoli problemi che non gli danno continuità. Da gestire, da gestire come vanno gestiti tutti. Lui ha superato il problema di pubalgia, gli è venuto fuori questo problema alla schiena, nel senso che non è un problema, in questo momento qui è un dolore che ha, l'abbiamo portato avanti per una settimana, lui tra l'altro ha stretto dente, ha cercato di esserci, ma purtroppo domani non ci sarà. Buongiorno, Romeo Agressi, gol.com. Le chiedo, mister, se confermerà dall'inizio Rugani. Grazie. Anche lì devo valutare, perché Daniele ha fatto una buona partita, però è tanto che non giocava, non aveva mai giocato praticamente, quindi a fine, gli ultimi 5 minuti con il Lecce, 10 minuti è dovuto uscire, perché comunque aveva un problema di crampi, ora vedrò domani, anche lì devo decidere. Daniele Galosso, Tutto Sport, alla luce di quello che ci ha detto, le chiedo, al di là dei discorsi di prospettiva, Ildiz, secondo lei, quanto può dare alla squadra a fin d'ora? Domani con fuori con Milic e Vlaovic ha la possibilità di giocare, ma Ildiz ha fatto due partite con la Next Gen, ha fatto due buone partite, lo stesso Wisin ha fatto due partite, sono ragazzi, sono giocatori giovani che stanno crescendo in maniera costante. Emanuele Gamber, Repubblica, ciao, vorrei tornare per favore sulle frasi di Giuntoli, che da un lato ti ha definito punta di diamante di questa società, e dall'altro volevo chiederti cosa pensi del programma a media scadenza, di cui lui ha parlato, dove dice anche che bisogna dare un po' più di importanza alla prestazione rispetto al risultato. Grazie. Per quanto riguarda quello che ha detto l'intervista del direttore, credo che abbia centrato in pieno tutte le cose, noi cerchiamo di, riguardo la domanda che ha fatto sulla prestazione, ci sono delle partite che giochi bene, le partite che giochi meno bene, ci sono gli avversari, per dire la partita di Marti con Lecce non è una partita assolutamente semplice, vincere le partite non è facile, soprattutto nel campionato italiano dove c'è molto più equilibrio, e soprattutto abbiamo giocato una partita intelligente, perché nel momento in cui non riuscivamo a giocare noi, non abbiamo concesso occasione a Lecce, e questa è un'altra fase della partita che va fatta bene, e con l'Inlecce l'abbiamo fatta. Come? Io ringrazio il direttore perché è stato tanto gentile e carino, ma la punta di amante delle scuole sono i giocatori, i giocatori sono quelli che dispostano l'equilibrio, noi bisogna metterli in condizioni, la società e l'allenatore nelle condizioni migliori di far bene. Quindi noi lavoriamo per questo, sappiamo comunque che abbiamo una squadra di prospettiva, ci vuole un pochino di pazienza quando magari vengono fatti gli errori, però sono errori di inesperienza e un po' di gioventù, e su questo dobbiamo lavorare. Buongiorno, mister Alberto Mauro, Eventos News 24, il messaggero. La Juve ha giocato tre partite in casa e in due di queste è stata fischiata all'intervallo, pur non avendo mai perso nemmeno una. Le chiedo se è una cosa che le può dare fastidio, o può dare fastidio magari al gruppo, in particolare ai giocatori con meno esperienza, più giovani. Fastidio non ne deve dare. Sono situazioni sicuramente dove devono essere vissute come un'opportunità di stimolo per cercare di fare meglio. Detto questo, quest'anno dobbiamo sapere tutti, l'ho già detto se non mi sbaglio dopo la partita, che l'anno prossimo se la Juventus avrà l'opportunità, e dobbiamo averla, di giocare in Champions, è un risultato per tutti. E quindi quest'anno bisogna essere concentrati su questo. E quindi parlo di quelle che sono all'interno della continenza, dei tifosi stessi che ci possono dare una grossa mano, perché comunque giocare le partite in Champions è un parco scenico completamente diverso e molto più bello, che piace a tutti. Salve il mister Odenino La Stampa, ecco, per uso di Champions, la sensazione è che domani sia veramente uno scontro Champions, tra la terza e la quarta squadra di questo campionato, due squadre che puntano a stare nelle prime quattro. Quindi le chiedo se la partita con l'Atalanta è anche un test di maturità per la sua squadra, visto questo iniziale percorso. Grazie. Test di maturità. Abbiamo già avuto uno scontro diretto con la Lazio, domani abbiamo un altro con l'Atalanta, quindi due squadre completamente diverse. L'Atalanta è una squadra molto fisica, molto aggressiva, e quindi bisogna farsi trovare pronti. Ecco, poi non è che domani finisce il campionato. Sicuramente domani è una delle partite dove per portare via il risultato bisogna fare un'ottima prestazione, sotto tutti i punti di vista. Buongiorno Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Lei ha prima accennato UEA sta cambiando un po' i giri del motore, insomma. Lo vedremo più impegnato anche dal primo minuto domani. Grazie. Dal primo minuto non lo so. Quando ho detto così, comunque che è un giocatore arrivato nuovo, doveva capire come è normale che sia diciamo l'ambiente Juve, il calcio italiano, in America ha fatto delle buone cose, poi ha avuto un momento di flessione perché comunque anche gli allenamenti sono diversi, era abituato a tipi di allenamenti diversi, pressione diversa e ora invece sta tornando un po' a quelli che erano i suoi livelli di inizio preparazione. Sono molto contento. Buongiorno Ministro e Marco Venditti, signore Mia Calcio News, rispetto allo scorso anno dove il Napoli è partito e ha fatto praticamente, è andato via da solo e le inseguitrici non sono riuscite a contrastare il Napoli. Quest'anno è un pochino più un divago il campionato, c'è questa alternanza di squadre che vorrebbero diventare un pochino leader ma poi no, è la settima, è presto, capisco. Ecco, se questo può avvantaggiare in un certo senso la Juventus, questa indecisione delle altre, grazie. Ma più che l'indecisione delle altre bisogna prendersi dei vantaggi noi. Come ci riprendiamo? Dando continuità ai risultati perché comunque il campionato dura 38 partite, ci saranno momenti difficili, però l'importante è cercare, come dico sempre, a viaggiare a velocità di crociera. Poi è fare un totto di punti che ci consentirà di entrare in Champions. Quello è il nostro obiettivo. Senza lasciare da parte quello che è il desiderio più grande. Bene, non vedo altre domande. Grazie a tutti. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.